Gianluca Flamini, una prestazione perentoria dell'Ilo di Pini contro il Monte Spaccato. Dove ne nasce una vittoria così netta? Nasce dal lavoro che facciamo da agosto, da inizio anno. Abbiamo iniziato con qualche problemino, però poi ci siamo messi in gareggiata. È iniziato il processo di trasformazione della squadra, che Anoviano ci ha portato a... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti